si avvicina con più cautela DASIO RISAIA TRGF ma sono tutti a rete poco prima dello stacco della macchina parte piano col due due drop all'esterno lottano DICON e DASIO RISAIA TRGF lungo la corda cerca di rientrare Donny Darkofont si ritrae per primo DICON in quarta posizione c'è Davide in curva problemi per DASIO RISAIA TRGF ma Giorgio D'Alessandro Junior riesce a farlo convergere in scia a Donny Darkofont che è partito lanciato alla corda e si è opposto agli altri due che erano partiti forte ma adesso arriva deciso Davide il netto favorito a chiedere strada a Donny Darkofont e ad ottenerla dopo 500 metri comunque decisamente veloci in meno di 36 è partito forte dalla seconda fila Comando Lewis ma rimane scoperto all'esterno del nuovo leader regalando la scia a DIPALASOL e poi a DUDROP vanno a formarsi delle pariglie Davide e Comando Lewis davanti a Donny Darkofont che ha in fuori DIPALASOL e poi ancora DASIO RISAIA TRGF davanti a DECON che ha all'esterno DUDROP e a chiudere ci sono DIPARPOL GRIFF e DIOCHEBEL chilometro in 1 12 e 9 per Davide messo sotto pressione da Comando Lewis Donny Darkofont tiene il contatto perde qualche battuta di PALASOL i mille e due in uno 26 e mezzo per Davide che replica a tutte le bordate di Comando Lewis poi Donny Darkofont che cerca di spostare dalla corda poi di PALASOL per linea interna invece c'è DASIO RISAIA TRGF Davide che allunga e si svincola da Comando Lewis ma deve fronteggiare ora la minaccia di Donny Darkofont a largo di tutti sta finendo forte DioCHEBEL Donny Darkofont in caccia di Davide che ancora in vantaggio poi Comando Lewis il pallo è vicino Davide che vince davanti a Donny Darkofont e Comando Lewis rimane generosamente in quota al terzo posto eludendo la rincorsa di DioCHEBEL che può essere solamente quarto 4 1 10 l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle con la vittoria di Davide Antonio Di Nardo il favoritissimo portacolori della scuderia RIFIFI che passa dopo mezzo giro su Donny Darkofont e poi lo tiene in rispetto nel finale quando l'avversario va al suo inseguimento e li termina a circa mezza lunghezza 4 1 e poi 10 per il terzo posto Comando Lewis che ha dovuto girare di fuori scoperto resta da dire 1 57 e 1 sul mio cronometro e quindi siamo intorno a una media intorno all'1 13 e 4 una cosa molto simile per il vincitore Davide con Antonio Di Nardo solina lo studio